yo yo on the left corner, blue light on the right corner anderman fight! Te rompo te spacco non è vero non è vero ah! ah! minchia 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 quanto fai male però no 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 aspetta 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 passa prisa 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 ehi! c'è un altro! ready for the battle eccolo ciao tacito però quanto fai male o guarda come muoio eh PORCADORI A FEW MOMENTS LATER Round 3 E E Mezzo cuore E No 2 E E Porca caccio Madonna Madonna Ciao a tutti ragazzi Qui è Blue Light E benvenuti oggi in questo nuovo video Adesso siamo qui in questo nuovo video di Minecraft Vanilla Allora ragazzi siamo tornati dopo un po' di tempo sul nostro mondo E in questo episodio andremo a fare una cosa Non complicata però un po' difficilotta Cioè trovare l'end Dobbiamo trovare l'end Quindi dobbiamo prendere l'enderpearl E come avete visto ho cercato di uccidere qualche enderman Però ci ho rimesso la pelle Pensandoci bene ho detto Ma ci stanno i chierici che ci danno l'enderpearl E quindi ho fatto un po' di trade con il nostro amico chierico Però non solo con lui perché questo voleva 5 smeraldi E mi dava un enderpearl Ma anche con un chierico che ho rinchiuso qua dentro Zitto zitto Guardalo sta là E lui con 4 smeraldi mi dà l'enderpearl Inoltre per prendere tutti questi smeraldi Io ho fatto i trade con il farmer Infatti ho dato un sacco di patate Un sacco di carote Un sacco di grano E sono riuscito a prendere 17 enderpearl Che non sono tantissime Però per adesso sono riuscito a prendere questo Perché comunque si bloccavano i trade Poi si risbloccavano e cose simili Quindi ora andiamo a prendere le blades powder Che ho già nell'inventario Perché ce ne ho 6 Perché sono appena tornato al nether Ne ho prese giusto 6 perché Nelle chest qua ce ne avevo tipo 5 E quindi ce ne abbiamo 11 Che sono No sono abbastanza perché Comunque ci danno poi 2 blades powder E quindi riusciamo a fare tutti gli occhi dell'end I o under Quindi andiamo qua Attiviamo il nostro crafting Ok siamo pronti Allora ragazzi Insomma Tappos come fate Non so perché l'ho trasformato tutto Però va bene Minecraft vanilla è tornato Siete felici Io però Oltre a trovare l'end in questo episodio Volevo spoilerare qualcosa Però non so Sicurissimo Però dato che ho visto che Ci sono dei nuovi iscritti Con le ultime live che ho fatto I crash royale Non so Forse volevo portare Un po' di crash royale Su minecraft In che modo Lo scoprirete nei prossimi episodi E tutto ciò Non andrà in porto Voi dovete scrivere nei commenti Blue Fai La torre dell'arciere Su minecraft Blue Fai La torre Del re su minecraft Capito Queste cose qua E io poi ci ripenserò Vedrò un po' cosa fare Capite Quindi 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 E tiriamo il primo occhio Vediamo un po' Eh te pare che va Dalla porta opposta Dove ci stavo andando io Ok Eh andiamo da questa parte Vediamo un po' cosa succede Ho un po' paura Però va bene Ok Madonna Penso se andavate subito giù Cioè se eravamo sotto casa Ma che bello è No eh Mai successo Mai successo E niente Da questa parte Va bene Uh che culo che non si rompe Culo che culo Ok Continuiamo di qua Quindi poi ragazzi Vi ricordo di consigliarmi Nei commenti appunto Che struttura Collegate a Clash Royale Perché no Che strutture posso fare Ecco vedi Poi quando dici che non si rompono Se ne rompono Se ne rompono Due di fila Vedi Vedi Io parlo E questi si rompono E niente Vabbè dai Devo arrivare In culonia Allora Porcaccio Ci troviamo In mezzo Alla Birch Forest Io continuo Ad andare Da questa parte Però adesso Se tiro l'occhio Torna indietro Ciò vuol dire Che Qua vicino Se torna indietro Stanno andando Tutto speduto Di là Dove cazzo Dove cazzo Andato No ma li sto a perdere Mi sa che stanno andando giù Uh Uh va giù Va giù Va giù Va giù Quanto giù stai andando Ah vabbè sto a 43 Un occhio me lo so perso Intanto Eccoci Ok Ok ci siamo Vediamo un po' Ok Subito I silverfish Allora Là Cade l'occhio Però Adesso Si quanti zombie Però che palla Ehi 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 Ok Allora Qua no Non sembra Allora Gira gira Tondo Casca blue light Una porta Che c'è un'altra porta Allora se ritiro l'occhio Me lo so perso No perché ritorna su No Non è niente di buono Se torna su Dimmi che sta qua Dimmi che sta qua Eh Delle luci Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Si Si cazzo Si Si cazzo Si 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 Così Così Ragazzi Edz Dieci Edz Quanti minuti Quanti minuti Voglio il tempo Ref Arbitro Calcoliamo i tempi Per favore 3 6 9 12 No Ce n'ho 11 Che rosicata Che rosicata Vabbè Intanto facciamo così Tanto non Non dovevo entrare Però Anfame Ok Stavo dicendo Non volevo entrare tanto Però Capisci che Almeno mettevo Tutti quanti gli occhi C'era una cosa Vabbè me ne manca uno Me ne manca uno Guarda quanti ne stanno uscendo Si 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 Poi Si qualcun altro Vai venite ragazzi Tutti qua The party is here Aio Guarda quanti so Porcaccio il cane Porcaccio il cane Porcaccio il cane E io muoio qua E io muoio qua E io muoio qua La 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 Io muoio qua Vai 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 Guarda quante Quanti hit gli tiriamo E se faccio così No 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 E se vi porto qua nella lava Bravi Che fenomeni ragazzi Venite venite Ah ma poi ci stanno pure quelli più intelligenti No oddio aspetta No 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 Porco Ok 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 Ci sono tornato Per fortuna è dritto per dritto proprio Proprio Da casa in diagonale e arrivi Non c'è niente la roba mia Vieni No ah si c'è tutto Oh che culo Dopo quanto tempo Che culo Che culo Che culo Che culo Ho preso tutto No 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 Di nuovo Non ho sentito uno Non di nuovo Vi prego Basta vabbè Allora salviamo le coordinate Ok Coordinate salvate Non lo voglio rompere con lo spawn Non lo so perché Me lo voglio lasciare Poi un giorno verrà rotto Ok E niente Poi ho trovato land Quindi tipo possiamo uscire E possiamo andare a casa Giusto? Giusto E Andare a casa Sì Ah da qua che culo C'ho l'acqua Però non l'abbiamo girata per niente Vediamo se troviamo le librerie ragazzi Librerie Oppure qualche altra cesso Da dove ne ho trovata una sola Oh ciao tipo Ti piazzo la torcia e poi diri meno Eh quanto so cattivo Ciao creeper Eh ciao creeper Eh Eh ciao Ok Eh Eccole GG 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 per blu GG per blu GG per blu GG per blu Ok qua ci stavano delle ceste se non sbaglio Eccola Uh paper Buona Da dove vieni Christaccio Cristo 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 Ma che brutto però Mezzo all'acqua così Cioè proprio Mettiamo le librerie Ma sì Allora qua abbiamo le librerie Che mi prenderò Andiamo un po' altre cesto Altro cesto Altro cesto Altro cesto Qua No Il ca Il ca Il ca Il ca Altro cesto Pia tutto Pia I stivaletti Non ce l'avevo Dai così Namu Vamo entra C'è stancato Ehi Aio Eh 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 Prendi le pizze Eh Ma che scala hanno fatto qua Ma che brutte Ma col blocco in mezzo Perché c'è una porta Boh Boh Vabbè Ok A posto Ora sì Che Posso Tornare A casa Quella porta non verrà mai aperta Ciao cratta brutta Fuck 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 Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Ciao a tutti E niente Quindi abbiamo trovato land A breve Guardalo 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 E' bastato A breve Lo andremo A vedere Perché Ti dico a breve Però non è a breve Perché mi devo preparare ancora tutto Non ho niente in diamante A parte una spada E Poi c'ho pure un arco P Però capite Spada e arco Non è proprio il massimo No Però Non so nemmeno quanti diamanti ho Tipo una ventina Esatto 22 22 So Non tutta l'armatura Non è tutta l'armatura 22 pezzi Quindi Devo sicuramente Trovare qualche altro pezzo Non so Se Andare off camera Appunto in grotta Oppure magari farci una live Mentre vado in grotta Non lo so Questo poi Lo deciderò Quindi ragazzi Per questo video di Minecraft Vanilla BluLightTutals Per questo Vi ricordo Lasciate un mi piace Di commentare Di condividere questo video E se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale Pagina Facebook in descrizione Instagram in descrizione Telegram in descrizione Quindi Ciao a tutti Ciao a tutti Da BluLight Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.